Forbid Andiamo a... Il Betone quasi praticamente Siamo ancora a San Genia Non so se avete riconosciuto i nostri posti C'è un'altra Il Betone Grazie a tutti. Grazie a tutti. Stiamo andando a recuperare il terzo metro e anche il quarto. E ci riaggirremo stradunissimi. Eccoci, ho voluto registrare quest'altro pezzo di strada. Tante coste, qualche ventilinio in mezzo alle montagne. E ci riaggirremo stradunissimi. E poi che prima. Grazie a tutti. Stai chiamando Antonio, il terzo. Antonio, dimmi. Noi siamo praticamente quasi a Pettone. Eh sì, ci vediamo dove c'è il palazzetto. Ma ti sento bassissimi, guardo. Guardo, ti sento proprio basso, basso, basso. No, mi sa che ho qualche problema con l'interfono, però mi sento basso. Comunque, vediamoci al palazzetto, assorto. Non si capisce, no, dai. Aspetta che ti richiamo io, ti richiamo io. Eccolo, il vivo della giornata. Non ho il collo che si gira ancora a 360 gradi. Come la vediamo questa giornata? Come la vedi questa giornata? Normale, tranquilla, rimassante. Andiamo all'aria fresca. Andiamo a recuperare gli altri, dai. Qui diventa sempre più bello. Allora, qui siamo già nel Parco Nazionale della Gila. Ecco, è arrivato il torbiccio e anche il terzo di quanto ci ha tradito. E' già andato più avanti. 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 Guardate, il padrone della strada è lui. Guardate che ci sono 20 gradi. Oggi ne abbiamo 6 di ottobre, agosto-ottobre e siamo alla bellezza di 900 metri sul livello del mare. Dove è una giornata a dispensa. Il corpizio è già letteralmente seminato, non so dove è andato a finire. Speriamo che lo intraveriamo. No, via! Non pervenuto. Mi piace che c'è un po' d'aria, non si sente perfettamente il sound. No, via! No, via! No, via! Speriamo come se avessimo una scottiva. No, via! Va bene gatta! No, via! 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 Abbiamo già fatto fuori due tacche di benzina, economici oggi, ecco, ecco. Sta passata un po' la temperatura man mano che saliamo di alti soline, adesso abbiamo 17 gradi, segna, siamo a 1000 metri circa, 1100. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Abbiamo quasi arrivati a destinazione, manca davvero poco. Eccoci qua. Abbiamo arrivato, come dissero Pio e Medeo a Ciao Darwin. Situazione molto tranquilla, questo qua che fa, si sveglia? No, le frecce agli indiani, mi raccomando. guardate, 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 gliel'hanno arrivato a nessuno, ci infiliamo. Via. Ciao amici delle carabinieri. Grazie. Grazie.